Il gioco del terreni su cui il Papa Francesco ha posto questa incidica e vuole sfrire questo pensiero. Va bene, allora io ringrazierei Monsignor Giulietti per la sua breve intervento, ci hanno tenuto tutti quanti molto appesi, grande concentrazione in sala, quindi voglio dire che siamo riusciti a mantenere un alto livello di comunicazione tra il palco e il palco, non sempre ci riesce, è una bella cosa questa cosa qui. L'argomento è interessante, ne dovremo sicuramente riparlare in termini di rapporto con delle culture, di presenza di questo tipo di cose, sarà sicuramente anche uno stimolo per il nostro festival, anche in relazione di cose che ho c'è detto. I tempi si sono fatti stretti, quindi non facciamo altamente conclusioni, anche perché non siamo affatto a conclusioni della cosa, e quindi direi che possiamo scendere per il pranzo e ci si rivede poi poverici. Grazie. 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 Grazie.